Di mia parte mi chiede che mi chiede di Porto Akinanamparà oggi tardi per compartire con la comunità ecuatoriana che vivono in Boneiro e per me vedi che noi stiamo a commemorando la feccia qui in Boneiro. Di 214 anni di independenza di Ecuador, in Ecuador, da celebrei 214 anni, però cerca di noi qui in Boneiro per me vedi che la comunità ecuatoriana decidi di celebrare e commemorare in modo che mi chiede di commemorare la feccia di un paese per un paese questa independenza di Ecuador. Mi chiede che mi conoscevano a diversi ecuatoriani in Boneiro, che mi basta, viaja, contatto con noi, però è una comunità ecuatoriana che aveva recentemente un'ampliazione qui in Boneiro. Non sta molto tempo passando, non so, abbiamo abbastanza un paese e abbiamo un anno e un anno, magari un anno, che avevo un po' di più di contatto con noi. Quindi, mi chiede che mi chiede, il signor Akinanamibana, Dretti, a qui, Francisco e anche Manuel Bissagorati, ci sono un'ampliazione di lavoratori, ma non ci sono un'ampliazione di lavorare, lavoratori. Non sta contento di avere un tour qui in Boneiro, perché di una forma o di un'altra, possiamo apportare alla nostra economia, possiamo apportare alla nostra società, possiamo apportare alla migliorazione, per noi come Boneiro, come un'isla, per noi, come un'isla, per noi, come un'isla, per noi, come un'isla, per noi, come un'isla per noi, ma molto specialmente, per noi, come un'isla, per noi, come un'isla, per noi, come un'isla. Mi chiede a un'isla con la parola del signor Manuel, che, davvero, mi chiede a lamentare la notizia di ayer la notizia, di ayer la notizia del asesinato di candidato presidenzial, di ayer la notizia, in Ecuador, che è in generale, si può mirare bene, da maniera un'isla per la democrazia del Paese. Mi spero di corazzone, di un'isla oltre, anche mi sa, ma le sa, ma tende, varii commentari, che la situazione è abbastanza penibile, e abbastanza severa, per me, che per me, un'isla, un'isla, un'isla drastica, però, di corazzone, mi spero, che, pronto, l'oporti un'isla, di tal'indole, che non si guarda, che ci guarda, il tipo di cose, che guarda meno, nel Paese di Ecuador. Di me parte, mi capito, anche, mi invito, come miembro del Consejo Insular, a Quintana, a questa asociazione ecuatoriana, per traare un'isla, 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 con il Consejo Insular, per me, una presentazione, con noi, e per la cooperazione, entre voi e noi. Bisogna qui, mi ti desee, un'isla, non solamente ecuatoriana, però, tu, che si attende, tambe, che è ecuatoriana, qui nel Boneiro, e tu, che si senti, ecuatoriana, però, che non si nasce, nel Ecuador, mi ti desee, a voi, un'isla, dià, 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 ecuatoriana.